L'ultimo acuto della regular season al palaradio è delle più pomicas al maggiore che regola 3-1 la Igor Gorgondola Novara in un match capace di esaltare gli oltre 3.000 presenti nell'arena di Cremona. A dispetto della classifica che vuole le contendenti distanti e già certe dei rispettivi sesto e secondo posto, il duello in campo è senza esclusione di colpi, come sempre accade quando a sfidarsi sono le rosa e le azzurre. Il pensiero della semifinale di Champions League induce coach Massimo Barbolini a tenere fuori Francesca Piccinini. La fame di playoff spinge Marco Gaspari a puntare sulle migliori, ne esce un primo set a tratti spettacolare, chiuso da Casal Maggiore 25-18. Novara alza i giri con Paolo Egonu, 30 punti per lei in toto e strappa il secondo parziale, 19-25. L'Epiukomi impiega poco a riaccendere l'entusiasmo di case con una illuminante. Kasia Scorupa, MVP per distacco, apre il ventaglio di possibilità offensive mandando a segno l'intero arsenale. Il terzo set finisce 25-19, il quarto 25-21. Casal Maggiore è pronta per ospitare la Savino del Vene Scandici in gara 1 dei quarti di finale playoff Scudetto. Novara chiude le valigie per Istanbul prima e Firenze poi. Il bello della Samsung Volley Cup deve ancora venire.